Partiamo da 10 ore fa Siamo andati al G-Bar a Trilussa Dando una mano a Thomas a fare il video della serata che ho organizzato all'ACAB Per l'apertura del nuovo negozio Ironess Ironess di vestiario baschettista Siamo spostati verso mezzanotte all'ACAB Ha iniziato ovviamente a piovere Pioveva anche dentro il locale Abbiamo fatto le riprese E ci siamo accorti che all'ora in cui dovevamo andarcene di piava Niente alle 5 e mezza Allora siamo riusciti ad andare a dormire Stamattina il treno era alle 10 e 57 Siamo riusciti alle 10 e 8 Quando arrivati alla metro che era chiusa C'era sciopero dei mezzi Abbiamo continuato il moterino a piuttare verso Termino Mi sono incollato uno Io sono entrato tra la marmitta e la ruota Cioè rincastrato proprio col moterino E niente Siamo arrivati lì di fronte al treno Che doveva essere partito Invece l'abbiamo preso Allora guarda qui Non la puoi mettere Questo lo dici tu Oddio le orecchie Adesso le riscordate gli orecchieri No Benvenuti a Napoli Lo doveva dire lui Ma lo dico io Perché lui non sa proprio sbloggare Non è abituato Piccola Luigi Siamo arrivati A Napoli Centrale Inizia tutto da qua Una bomba Animale Animale Ma dove è il sogno di animale Non lo so Non lo so Ma come si abbassa qua Cazzo Abbassa tutto Matteo Non è mai schifo Eh l'ha detto Mezzo sì Dai c'ho i miei panini Se mi abbassa Mi mangio quelli Che un'altra volta Io andavo al Meccano E mi disse La verità Mangia solo fast food Mi segnete il cazzo Toy Story Ci sentiamo Un gioiello Cazzo Un meccano Stiamo per girare il giubbotto Bella Eddie Un giubbotto Perché Senti Chi è il più forte In Italia Allora Diciamo dei giovani Ma io conosco i pezzi miei E conosco i pezzi degli altri Ma lei è mio Capito Non c'è questa competizione Poi si 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 Comodo Buca a saccone Buon Natale Non sarà mai Aceto Io non fumo Cos'è? Stai impazzito Ma vedi quante volte ci hanno messo lo scotto Non si sono ricoraggi Dai Guarda che cazzo c'è dentro Oh ragazzi sta fermi all'inizio Io mi trovo qua Lui mi ha Dì chi sabe Pure è bianco 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 È proprio È una cosa Ho capitato Arian Contrata Ma che è giocato Ma che è giocato Ma che è giocato Mi metto su lì Se scendiamo un po' di vino paesano L'ho bevuto Bianco È il mio nonno fa il rosso Ci mette la nido grigerina Bella è di qua Bella è la stessa persona Cioè sono due persone Nello stesso corpo Cosa ti serve? La vita come se fosse un videoclip Fuma Vai Fuma Fuma Gang Allora qui dietro C'è suo fratello Eccola È suo fratello Tutte le fighe che passano Cazzo tene fratello Assoluto Assoluto Altra cosa Bene abbiamo girato due video Uno Due 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 Secondo girato da Lucas Reddy Interimente Che non vedo più Baby Sì Sì Guarda la b***a Dimmi che te passa Ci starebbe molto capito Mi serve moltissimo Mi serve moltissimo E che c'è lì? Che taglio E che c'è lì? Sì Ehi Ciao Sì Qui siamo gli edit mondi E siamo sul trailer di turma verso Roma Abbiamo girato ben tre video nell'alto di tre giorni Uno a Gaetano Frascaventura Un altro a Ricce e Sony Black E un altro a Messi Cazzo Questa cosa non la useremo Niente perché siamo arrivati a Tiburtina E niente ci hanno soltanto detto che la metro era chiusa E quindi un cazzo Il SERS è uscito che c'era un codice clienti E si scaricavi l'app My taxi E niente abbiamo soltanto tipo 20 euro da consumare Per farci un viaggetto così Ah buffa grazie Quindi sono proprio 20 potuti euro Col cazzo che andiamo con l'autobus La tua è già gratis La in alto sta qui e voi state Piccoli Piccoli bofos It's good man Guarda come ricerca i taxisti Guardalo 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 Dov'è Particolo Guarda come ricerca i taxisti io sarei salvi ogni giorno muore un fatturino portando a edith one un pacco l'amazon mi sono ordinato un tostapane perchè mi serviva perchè la mattina mi ha preso il culo perchè è il mio compagno e quindi questo è uno dei miei regali di compramento per la mattina non mi piace fare colazione dei miei panini con scavazzo e prosciutto e poi sono un po' un power bank che stai... delle calze le sei comprato un power bank di 2400mAh ci ricatichi anche tua madre con questo siamo tornati a Roma salvi e salvi vedi luca pure scary edith one life on set bitch we made another time another one ciao 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 ciao